Il Lirico di Cagliari 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 Dunque il Via con il Gloria di Poulin del 1959 Nella seconda parte invece, via le voci, arriva Tchaikovsky Stasera si replica alle 20.30, mentre dal 18 maggio il soprano Tania Kuhn torna in Santa Susanna di Indemit insieme ad una cavalleria rusticana in ammettazione sarda per la regia di Gianfranco Cabiddu E' tutto, buon pomeriggio